I primi americani noi li abbiamo visto di qua, venivano a volare verso il Pilastri, verso il ferabese, delle canonate che non ti dico, siamo andati a letto perché credevamo insomma che fosse un po' calma la cosa, pareva proprio da saltare sud dalle cose, allora con gli sfollati con tutti, abbiamo portato giù tutti i materassi, siamo tutti stesi lì in sale per terra e si siamo colicati tutti lì, così faceva meno spostamento. Le canonate e si vede che dopo si sono diramati, non so se si siano diramati sulla strada quella lì o quella lì dei Malcantone, noi li abbiamo visti uscire di lì, che c'erano tante piante allora, e allora abbiamo cominciato con bandiere, con lenzuoli bianchi sulle finestre e la bandiera ci hanno attaccato lenzuola per tirarli, per far vedere che li accoglievamo bene. Si sono immaginate che noi, erano cinque anni che il caffè non sapevamo neanche quello posto, ho cominciato con dei secchi di caffè, facevano un po' biondo, ma era così buono, e venivano con i secchi e dei bicchieri a darci il caffè a noi, con delle scatolette di carne, ma tanto buona, tanto buona che ce ne sono state, che si sono fatto scorta e hanno mangiato dopo anni. Dopo anni, quelle me le ricordo, una bella carne roba.